In molti hanno notato nelle ultime settimane le squadre al lavoro sui nostri viali o strade principali della città che effettuano le potature delle alte chiome degli alberi con cura precisione e soprattutto con continuità e metodo. Seppur al momento realizzate dalle medesime ditte che lo eseguivano per l'amministrazione comunale queste cure del verde pubblico ora vengono gestite da ASET con maggiori risorse a disposizione. Questo contratto in aus permette ciò che è sempre stato auspicabile per questo tipo di interventi ovvero la programmazione, la continuità ed un programma circolare. Una ulteriore sfida per ASET che non ha nel proprio DNA questo tipo di interventi ma che in poco tempo con la professionalità dei tecnici e dei dirigenti è stata in grado di realizzare una start-up talmente efficiente da poter pensare anche di proporla ai comuni associati. L'abbiamo vista come un progetto di quattro anni quindi abbiamo iniziato a ragionare su come ottimizzare quel genere di servizio. Non è stato semplice però penso che siamo arrivati ad un buon punto. Un buon punto dove abbiamo iniziato a intanto interloquire con i cittadini perché oggi vi presentiamo il piano delle potature di quest'anno che vanno fino a metà del mese di marzo. Per il prossimo anno, cioè parliamo da novembre in avanti, abbiamo un altro piano che presenteremo a sua volta dove il 50% circa degli interventi sono decisi tecnicamente da noi mentre la restante parte praticamente sarà l'accoglimento delle richieste che faranno i cittadini. 300 mila euro di risorse in più da quest'anno messe sul piatto che si vanno a sommare a quelle del consolidato sfionando così 600 mila euro. Somme mai viste prima per il verde pubblico ma ora terminato a marzo il ciclo degli interventi verticali ASET è attesa al varco con le potature e gli sfalci orizzontali ai uole e verde pubblico ciclabile Fano Fosso 6 ore compresa. Se le premesse sono quelle che abbiamo visto fino adesso io credo che non ci saranno problemi per questa città. Ci sarà un nuovo numero verde per cui le segnalazioni verranno fatte direttamente ad ASET e noi ovviamente come assessorato controlleremo e valuteremo insieme a loro anche l'attività da fare. Certo è che la gestione del verde pubblico per Fano sino ad ora era sempre stato un tallone d'Achille per le amministrazioni da Aguzzi fino a Seri, poco degna di una città con vocazione turistica. È una scelta che ci sta premiando, si è data un'organizzazione importante, strutturale, per dare risposte in tempi brevi ai cittadini ma soprattutto per dare una programmazione a cominciare dalle potature e dalla gestione del verde per rendere una città sempre più bella, sicura e decorosa.